Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Guidare con prudenza per il vento forte in FIPILI lungo tutto il percorso. Per i treni, a causa del disinnesco di un residuato bellico, oggi fino alle 16, circolazione sospesa sulla linea convenzionale Bologna-Prato tra Bologna-San Ruffillo e Pianoro. Sarà garantito un servizio di autobus tra le stazioni di Bologna Centrale, Monzuno e viceversa. Per i traghetti, la corsa Tore Mar da Piombino a Porto Ferraio delle 12.20 è stata cancellata a causa maltempo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!